Il contributo pubblico ammonta al 70% della quota che viene spesa dall'agricoltore per la polizza. Cosa si deve fare per essere assicurati? Per essere assicurati bisogna contattare le nostre sedi di zona o contattare me tramite telefono 344-0427-391 oppure via mail paola.goglio.it E a chi si appoggia Confagricoltura? Per fare questo tipo di polizza bisogna appoggiarsi a dei consorzi e poi noi essendo broker ci appoggiamo a più compagnie. In base alla territorialità, alla provincia e al tipo di prodotto cerchiamo la quota più favorevole per il socio quindi tassi più concorrenziali per il tipo di prodotto. Come funziona la polizza? La polizza può essere emessa da oggi fino al 30 maggio e poi viene pagata in due rate dai nostri soci una rata ad ottobre e l'altra ai primi di dicembre. Eventuali danni come vengono liquidati? Vengono liquidati solitamente entro la fine di dicembre. In più, se l'agricoltore avesse subito un danno si può fare la cessione del credito e quindi verrà fatta la compensazione tra il danno e il pagamento che deve effettuare. E il contributo quando viene erogato? Anche questo solitamente viene erogato entro la fine di dicembre.